Ciao, sono Angela, l'avatar di Yusuf che vi terrà sempre aggiornati. Inizio sin da subito porgendovi una domanda. Sapete che l'Istituto dell'Assegnazione Temporanea ha subito un'importante recentissima modifica con la sentenza della Corte Costituzionale 99 del 2024, depositata il 4 giugno 2024? Ebbene sì, e adesso ve la illustrerò. L'Istituto in questione permette al militare, con figli minori fino a tre anni di età, di fruire a domanda di un trasferimento temporaneo, della durata di massimo un triennio, che si può utilizzare anche in periodi frazionati, purché non inferiore a 180 giorni. La domanda in questione può essere sempre presentata fino ai tre anni del bambino e deve essere accolta previa sussistenza di un posto vacante disponibile nella sede selezionata e a seguito di una valutazione sulle effettive esigenze organizzative e funzionali dei reparti interessati dal movimento. Ciò è finalizzato a favorire la presenza e l'assistenza di entrambi i genitori nella vita del bambino, soprattutto nelle fasi più importanti della sua crescita e proprio in virtù dei valori costituzionalmente garantiti legati alla famiglia. Fino a poco fa era possibile richiedere il trasferimento temporaneo solo presso una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercitava la propria attività lavorativa. Attualmente invece, e qui entra in gioco la significativa novità che vi ho accennato, è possibile fruirne anche presso la sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione in cui è fissata la residenza della famiglia. Vi voglio però ricordare che non si può fruire di tale beneficio se l'altro genitore sta fruendo di un periodo di aspettativa, mentre la fruizione di astensione obbligatoria o del congedo parentale non infice in alcun modo con tale istituto. Ma allora, se il bambino ha due anni e sono ancora in tempo per presentarla? Certo, e in quel caso il trasferimento temporaneo durerà fino al quinto anno del bambino. E tutto ciò si applica anche per eventuali adozioni e affidamenti, per i quali il beneficio è garantito entro i primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, a prescindere dalla sua età. Ma cosa succede alla scadenza del triennio? Il beneficiario dovrà inderogabilmente rientrare al reparto di provenienza. E con questo vi ringrazio per la vostra partecipazione e per il vostro sostegno, ma soprattutto per il vostro interessamento che dimostrate nel tenervi costantemente aggiornati su tematiche che profondamente e quotidianamente toccano la vita di tutti noi, uomini e donne della Guardia di Finanza.